Da oggi con NewGo, app del gruppo Ferrovie dello Stato italiane per la mobilità integrata, è possibile acquistare anche i biglietti del servizio di trasporto urbano gestito dal gruppo Brescia Mobilità. Tramite NewGo il biglietto si acquista facilmente con lo smartphone, si paga velocemente e in modo sicuro tramite carta di credito o altri sistemi innovativi quali Amazon Pay, PayPal, SatisPay, Apple Pay o con bonifico MyBank. Il controllo avviene tramite un codice univoco attraverso il quale i controllori del gruppo Brescia Mobilità possono accertare la validità del biglietto. L'app è disponibile e scaricabile gratuitamente dagli store Google Play e Apple Store. Sì, è una partecipazione di Brescia Mobilità e del gruppo Brescia Mobilità all'app NewGo, un'app creata dal gruppo Ferrovie dello Stato che quindi si propone a livello nazionale di dare con semplicità ovviamente le informazioni sul proprio viaggio ma soprattutto in una sequenza completa e con i più moderni sistemi di pagamento via web di avere i biglietti completamente integrati. Quindi chi volesse fare un viaggio, che quindi vuol venire a Brescia o partire da Brescia potrà avere il proprio viaggio completo tramite questa app e quindi individuando quali mezzi utilizzare potendo acquistare un unico biglietto che potrà servire dall'inizio alla fine del proprio viaggio. La sinergia fra il gruppo FS e il gruppo Brescia Mobilità non è una novità evidentemente ci consente di dare a tutti i cittadini italiani e non solo ma anche a Bresciani la possibilità quindi di avere conoscenza delle possibilità di spostamento con i mezzi e soprattutto quindi la comodità e l'efficienza di poter con un solo clic comprarsi i biglietti quindi non doverli cercare quindi comodità, efficienza e conoscenza delle varie modalità di trasporto questo è il senso di questa partecipazione all'app Nugo che si può scaricare ovviamente normalmente come tutte le app è molto semplice e efficace e quindi vi invitiamo a scaricarle e a usare questo per i propri viaggi.